Buongiorno a tutti e soprattutto buon anno a tutti! Allora, io questo messaggio voglio mandarlo al nostro caro governatore della Contea, colui che con le sue battute ci ha fatto diventare famosi in tutto il mondo. In realtà ci ha fatto ridicolizzare dall'intero mondo, proprio per le sue puttanate. Vi ricordate il lanciafiamme, il latte al plutonio, poi il napalm, poi prendete e buttate a mare i Novaks, questa è una pandemia dei non vaccinati, adesso vuole fare il lockdown per soli non vaccinati, insomma una marea di puttanate. E allora, essendo che io non sono medico, credo che in qualità di cittadino posso esprimere le mie opinioni, proprio perché vivo in una nazione apparentemente democratica. Vi ricordate all'inizio di questa pandemia? Ci hanno detto che l'unica arma per poter controbattere l'offensiva di questo virus è il... Una volta uscito il... Ci hanno detto che quest'ultimo immunizzava al 99,5%, Poi sono scesi al 97,5%, Poi sono riscesi al 95%, E poi hanno iniziato a dirci che per poter salvaguardare la salute pubblica bisognava raggiungere il 70% di... Totale. Poi sono saliti all'80% E adesso stanno dicendo che bisogna raggiungere il 90%, se non il 100%. E per quale motivo? Perché ormai, come tutti abbiamo capito, Questi... Non coprono come dovrebbero. E che cosa dicono loro che questa è una pandemia dei non... Ma dico io, Se un... Nasce per poter prevenire una malattia, Com'è possibile che poi questi... Si infettano? Perché prima ci hanno detto No, il c***o non immunizza, Ma riduce il contagio. Poi ci hanno detto Non riduce il contagio, Ma non ti ammali. Poi ci hanno detto Ti ammali, Ma non finisci intubato. E adesso cosa dovrebbero dirci? Finisci intubato, Ma non muori? E allora È palese che qualcosa, Che qualche conticino non torna. E proprio per questo motivo Io cerco di risvegliare Le coscienze Di quelle persone Che purtroppo hanno creduto E hanno ceduto Non solo al ricatto, Ma hanno creduto A questa scienza illogica Dettata da gente Che lavora per il bene Delle tasche Delle tasche dell'alta finanza speculativa, Cioè della gente Che finanzia le banche E le case farmaceutiche. Porca puttana! Perché voi ancora purtroppo Non l'avete capito. E allora ve lo faccio capire io Senza mezzi termini. Eh? Caro governatore! Perché cannappola Fortunatamente Non si imbango a tutto Quando diceva, Ma fortunatamente. Però le sue minacce velate Io me le ricordo molto bene. Lanciafiamme, Napalm, Latte al plutonio, Buttate a mare i Novavax, Pandemia di soli non vaccinati. Io voglio capire una cosa. Io non sono un Novavax Perché mi ha già fatto Tutti i vaccini di questo mondo. Personalmente Non mi fido E non mi fiderò mai Di un c***o Che non copre Che non previene una malattia Perché non ho mai visto Che per poter prevenire Che poi non previene nulla Una malattia Bisogna farsi quattro dosi all'anno Ma anche fossimo tossica. È chiaro. Quindi Si è palesemente capito Che questo c***o Non ha quell'efficacia Che voi avete propagandato Ma chi c***o C'è la mia fa fa? A che serva? A che serva? Non era meglio investire Nelle terapie? Pure quelle a basso prezzo? Perché forse questo è il problema È la politica? È la geopolitica? È la spartizione dei territori? È il potere che state dando A qualche famiglia Che si è scissa Da un'altra famiglia E cioè dal potere oligarche? Cioè fateci capire Perché Ve lo ripeto I si vengono in Dacoc Trasmissione Ma facci vedere figure e merda A quando ci sono state Pure meglio giornalista Perché quelli sono i primi Che andrebbero radiati Dall'ordine dei giornalisti Perché vanno contro Il proprio codice Deontologico Per dire Le puttanate Che dicono E allora per una buona volta Raccontateci Una strafottuta verità E cioè Che manca voi sapete Che la che state facendo Che manca voi sapete Se chi sti Servono o non servono Che manca voi sapete Gli effetti collaterali Che potranno generare A media e lunga durata Questi Non lo sapete Dovete essere veritieri E efficienti Perché lo stipendio Ve lo pagano Le stesse persone Che voi state facendo Rimanere a casa Senza che hanno O che possono presentare Quel fottuto Green Pass È chiaro o non è chiaro Voi lavorate Per il bene del pop Per il cittadino E quando non sapete Faticavano A dare una sua cazza È inutile Che ogni tanto Minacci di lui Perché non fai paura a nessuno Non ci mettiamo paura Di che moriscono Ci mettiamo paura Di te Mettate l'indicione Nella cacca Non ci mettiamo paura Di nessuno Hai capito O non hai capito È fatica buona Perché avevamo Noi i stipendi Non dovevo stare Ed effettivamente Ci ha scassato Il cazzo E non sto pazziando Non sto facendo Personaggio come fai tu Che è una volta Attacca a Meloni Poi a Salvini Poi a Chilato Poi a Chistà Vuoi un personaggio O vuoi un politico Quando comincia a faticare Che stai facendo Una mare istruzzata È faticare Perché tu devi 10 ore sordo Ogni fine mese Devi lavorare E capite che è fatica Qui nessuno vuole dire Che la scienza Non serve Anch'io sono per la scienza Ok Ma per quella scienza Coscienziosa E logica Non per la scienza Illogica Perché è illogico Ed immorale Dare credito Ad un Che effettivamente Non ti salva Dal contagio Perché anche Si stanno contagiando E non lo dico io Lo dico nei dati Istat Lo dico nei medici Di libera informazione Che non vengono A fare I personaggi in tv Con machillitri Scemo Che se non mi sa Fa pure la canzone È chiaro o non è chiaro Allora Dobbiamo rispettare I cittadini Voi dovete rispettare I cittadini Perché noi Nel nostro piccolo Stiamo facendo Una sorta di informazione Per quella gente Che ancora De capire il cazzo Per quella gente Impaurita Per quella gente Che non ci fa più Vi siete tutti Abbassati al cospetto Di questo Mario Draghi Ma chi è Questo Mario Draghi Uno che svenna E tutto quanto Ne puoi mettere Un euro E poi Vieni a mano E poi fai sordo È facile Tutti quanto Sapiamo svennera Che il loro problema È svennera E là Nel nostro problema Che non si svennera Ma è male Con tutti i panni Sulla cacca a mare Con tutti i panni Stanno vivendo noi No voi E allora Pidatevi Qualche responsabilità È detto francamente Caro De Luca Queste minacce Velate che fai Te la voglio ribadire Tienatela per te Non ne dicere più Non ne dicere più Perché tu In questo modo Stai sticando Qualche fulminato Di testa Che può fare Quello strunzato Io lo dico Per la tua incolumità Per il tuo bene Ti voglio pure bene Puoi si dice Strunzato Ti voglio bene Ma non puoi dire Pidatevi Che sei manata La mare Non si dice Neste cose Sta al tuo posto E mettiti a faticare E cominci a faticare Perché la ricotta La panna fa tutto qua Tutti quanto Ne sappiamo fare ricotta Ma chi è più buono Chi è più malamente Ma tutto quanto Ne la sappiamo fare Allora Cominci a faticare Perché i tuoi stipendi La tua figlia Stai rimanendo in casa Genta Che non puoi più agliottare Che non puoi più Mettere un piatto a tavola La tutta La festa di Natale E ma pure Capodanno Sta gente La pandemia Che sono Struzzato Cioè ma Se i novi Non possono andare E fare più niente Non puoi neanche Più assi Pidare un caffè Come spiegate L'aumento Di questi contagi Come si spiega La logica La logica Dov'è sta la logica Questa è scienza Questa non è scienza Questa a mio parere È truffa Ai danni dei cittadini Perché poi Quando la truffa È ai danni dello Stato Arrestata tutto guanda Ma voi Chi va e resta Chi va e resta Nessuno Perché siete parte Del sistema Eh E che ce ne fottano Nessuno Sto sistema Noi non Volemmo Sto sistema Ce fa schifo Sto sistema E avete perso Credibilità Non oggi Già da tempo Perché la classe Politica Ormai È sputtanata Avete fatto Una brutta fine E voi sapete bene Che avete fatto Una brutta fine Per questo Cercate di andare avanti Con questi decreti Legge E governi tecnici Perché lo sapete bene Che a gente Si è scassato Cazzo Non vi ha avutato Non vi supporto più Perché voi Non avete mai lavorato Per il bene Del cittadino Avete sempre Lavorato Per il bene Dei ricconi Che finanziano Il tutto E a noi E sta gente Non ce ne fottono Cazzo Quindi caro De Luca Te lo dico Proprio per Per augurio Di questo fine anno Nel 2022 Fai la persona seria Fa come si dice A Napoli L'homma E dire Che fa Perché c'è Stanno gente Che non possono mettere Anche più piatta A tavola E saranno queste stesse persone A creare problema E voi lo sapete bene Perché l'anno passato Quando Napoli Scenette Miezzavì Arroppagatori Ci sta lock Da uno per tutti Faci sta vivere Ma che cazzo Sotto Noi non vogliamo Arrivare a questo Perché la violenza Non è mai buona È una cosa Che non vogliamo La violenza È per È per gli ignoranti Però poi Quando la persona Inizia ad avere fame E non sa Parare di prendere i soldi Per mangiare Ha come già diventato Violenta E voi questo Come politici Non lo dovete permettere C'è stati scassando Cazzo Scusate il mio francesismo Vi auguro di nuovo Buon anno E ragazzi State tranquilli Non vi facete Più pigliare O panica Non fatevi Prendere dal panico Dovete stare tranquilli Tranquilli Ok? Ve l'ho già spiegato Nel video precedente Ciò che dovete fare State massanti Un bacione a tutti Grazie a tutti I Grazie.